Eh, Lucilla, però così perdiamo tempo. Scusa, i capelli legateli prima. Dai, Alla. Dai, Lucilla. Vai, vai. Brava, brava, brava. Vai, brava. Tasca, Lucilla. Tasca, perla in fondo. Oh. No, persa. Piano. Lucilla ha fatto due o tre cose e oggi ho detto, boh, devo studiarmela bene. Lucilla, mi dispiace, non sei riuscita a superare questa prova. Bisogna cercare di capire se è stato un errore per la foga o se è stato un errore voluto. Marco Melandri, tocca a te adesso. Vai, Marco. Vai, Marco. Vai, Marco, bravo, 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 bravo. E allora, eh? Vai, Marco. Bravo, bravo, bravo. 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 Se qualcuno aveva dei dubbi dopo la missione dove ero legato con Ludovica, oggi credo di essermi rifatta la grande. Buonga. – Sì. – Sì. – Sì. Grazie a tutti